Che è meglio per te? La sicurità o la libertà? E' una cosa che tutti noi un giorno pensiamo, perché dici voglio sentirmi più sicuro o mi voglio sentirmi più libero? Ora, oggi ti ho insegnato come tenere la sicurezza. Siga il cammino, trasformati, cambia il mondo, Panasem! Sono il Dado del Giappa Mantra di Panasem e oggi vamos a vedere che è questa sicurità e questa libertà. Vabbiamo a parlare prima della sicurità. La sicurità significa che tengo dinero, che tengo techo, che tengo ropa, che tengo tutte le cose che mi servono. Tengo dinero per comprare la cosa che voglio e mi sento sicuro. Al stesso tempo, questa sicurità mi imputa a tenere più sicurezza, perché è quello che passa. Quindi, se io ho un appartamento, voglio due, dopo voglio tre, e c'è il momento che voglio accumulare, accumulare, accumulare. Esa è la mentalità dell'accumulatore o della persona che vuole la sicurità. Tutto il mondo vuole sicurità. Questo significa lo che noi chiamiamo l'istinto di preservazione o di conservazione, o di supervivenza. Ok. L'altra cosa è la libertà. Ok. Tutto noi, come seres humanos, vogliamo essere liberi. E essere liberi significa che la libertà mi saca molto buona parte della sicurità. Perché se io sono libero, dici, bueno, io non lavoro, quindi voglio viajar, però se non ho sicurità, se non ho dinero, quindi dici, bueno, voglio lavorare con il mochilero, voglio viajar, voglio stare in alcuni hostali, non in un hotel buono, eccetera, eccetera. Sì? Adesso, la sicurità significa che, non sto totalmente, la libertà significa che non sto totalmente seguro di quello che è il mio futuro, di la mia maniera, perché mi voglio sentire libero. Ok. Quindi, quali di le due? Io conosco un signore, però dici, si mori. Ese signore aveva accumulato molte proprietà, sì? Molte proprietà, quindi l'aveva alquilata perché voleva sentirsi molto sicuro. Claramente, economicamente era molto sicuro, però non era libero. Perché tutto il tempo lo chiamava a qualcuno, dice, mira che si da un'ello questo, perché questa cosa è qui, o non pagava la rienda, o lo che sia, e si è volto esclavo, literalmente esclavo di queste proprietà. E quando si mori, le passò tutta questa proprietà a le due figli, che sono tornano altre due esclavati di queste proprietà. Ok. Quindi immagina che una delle queste chiche vuole essere libero. Quindi, che fa? Ui, ho 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 queste proprietà, quindi mi ha sicurità, però io voglio essere libero, non posso viajar perché ho ho la propietà di administrare. Qual è il segreto? Il segreto è è sapere delegar. Ok? Perché? Perché nel momento che ho ho una proprietà o ho ho questa sicurità, mi apego a queste proprietà e nel momento che mi apego, chiaramente non le voglio soltare. quindi la parola clave come ho detto sono sicurità, come si chiama, desapego e sapere delegar. Nel momento che io ho una sicurità, significa che ho una proprietà, di nero, lo che sia, devo sapere soltare a qualcuno che mi mania questa proprietà, significa sapere delegar. Ok? E' desapegarmi al stesso tempo di queste proprietà. Nel momento che ho ho le due, io sono libero. Sì? Perché? Perché se no sto tutto il tempo con le due, o una o la otra. La libertà mi encanta, però non mi sento seguro. La sicurità mi fascina, però non mi sento libero. Cuali di le due? Le due. Quindi la parola clave in questo caso sono desapego e sapere delegar. Nel momento che sape queste due cose, puoi tener le due cose, sia sicurità che libertà. e per tenere tutti i due chiaramente necessitiamo la parte sutil. La parte sutil qual è? Che il infinito sta già in ti. Descubrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sìgueme come Dada Yapa Mantra. Il infinito sta già in ti. Descubrelo. Aprende. 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 Aprende.